Amici 2023-2024, prima puntata, Kanyaman e tanti altri. Manca poco all'inizio della nuova edizione di Amici. Il programma dovrebbe tornare in onda domenica 17 settembre, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali. Qualcuno ipotizza che la prima puntata potrebbe slittare di una settimana. In attesa dell'ufficialità, ecco che qualche ora fa, il portale MondoTV24, ha riportato alcune indiscrezioni riguardanti gli ospiti di questa prima puntata. Siamo ancora nel campo delle ipotesi. Quindi tutto va preso con le pinze. Però, se i nomi trapelati venissero confermati, Maria De Filippi metterebbe a segno un nuovo colpaccio. Proprio così, visto che, nella puntata d'esordio, dovrebbe intervenire Kanyaman, l'affascinante attore turco, già ospite negli ultimi anni di diverse trasmissioni della nostra Queen Mary. L'attore, nella nuova stagione TV, sarà impegnato nella seconda serie di Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi. Quindi, l'ospitata ad Amici, sarebbe un'occasione anche per promuovere questo suo nuovo lavoro. Secondo i beni informati, ad Amici Kanyaman dovrebbe avere il compito di comunicare agli aspiranti allievi le promozioni o le bocciature. Ma non sarà il solo ospite VIP ad avere questo compito. Si parla anche della possibile presenza di Alessia Marcuzzi e di Leonardo Chiraccioni. Ma non è tutto. Nella prima puntata, dovrebbero fare ritorno in studio, due dei finalisti della passata edizione di Amici. Si tratta del vincitore Mattia Zenzola e della seconda classificata Angelina Mango. I due ex allievi potrebbero cimentarsi in una sorta di discorso motivazionale, e di augurio per gli aspiranti allievi di quest'anno. Amici 23, tutte le novità sul cast dei professori. Insomma, la grande macchina di amici si sta a rimettere in moto. Ma come sarà composta la squadra dei professori? Al momento non si hanno certezze, ma pare che ci sarà un solo cambiamento tra i coach. Arisa infatti, dovrebbe aver abbandonato il programma per passare alla Rai, come giurata di The Voice Kids. Il suo posto dovrebbe essere preso d'Anna Pettinelli, già coach di canto negli anni passati. Quindi, per la Pettinelli si tratterebbe di un ritorno dopo un anno di pausa. Usiamo sempre il condizionale, visto che nulla è ancora stato ufficializzato dalla produzione di Amici. A dispetto invece di quanto trapelato nei mesi scorsi, pare che Raimondo Todaro sarà ancora presente nel programma. Quindi, salvo sorprese, i coach di ballo della nuova edizione saranno gli stessi dell'anno passato. Ritroveremo dunque Emanuello, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I prof di canto saranno invece i riconfermatissimi Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, a cui si aggiungerà Anna Pettinelli. Curiosi di vedere in onda la prima puntata? Chi vorreste vedere come ospite ad Amici? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.